Ciao, mi chiamo Fabrizio Desideri e sono un attore di Taranto, città nella quale tuttora vivo. Studio recitazione dal 2017, seguendo vari corsi professionali e annuali e vari masterclass in giro per l'Italia. Gli ultimi lavori che ho fatto sono stati girati nel maggio del 2022, uno in una serie tv intitolata Breganti che uscirà l'anno prossimo su Netflix e l'altra in un film intitolato Ameria. Grazie a tutti.